Riusciamo a portare il primo di giugno nel nostro territorio, ancora una volta la sua terza edizione, una tappa del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, per sensibilizzare sul tema delle cure palliative pediatriche e per sostenere le famiglie che al loro interno, nel loro nucleo, hanno minori a cui è stata diagnosticata una malattia incurabile, ma che non necessariamente hanno un'aspettativa di vita breve, ecco, hanno diverse necessità, molteplici bisogni e in questo noi crediamo che siano importanti le cure palliative pediatriche, il sostegno che può dare la rete, la comunità. Perché facciamo questo? Perché è fondamentale aiutare queste famiglie, mettendole in condizione di usufruire della legge 38 del 2010 per garantire una qualità di vita adeguata alla famiglia e ai bambini che ne fanno parte. Come facciamo? Con un appuntamento, una ciclopedalata, apportando la possibilità di far conoscere la problematica. Il primo di giugno, quindi, vi invitiamo tutti a partecipare. Ci saranno due punti di partenza, uno da Fano, uno da Pesaro e un punto di incontro a metà sulla ciclabile Pesaro-Fano. Quindi vi invitiamo a partecipare, la partecipazione è gratuita, potete avere maggiori informazioni consultando la pagina Facebook Ciclopedalata per tutte e per tutti, Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Come dicevo è gratuito, però bisogna registrarsi. Quindi potete mandare un'email a infochioccio alla fondazione di Ferdinando.org oppure scaricando direttamente il biglietto su Eventbrite.